Ciao, ti sto facendo le pappardelle fresche e funghi di bosco, mi dai ancora 5 minuti? Colpo di fiamma di Giovanni Rana, pasta e sugo freschi che cuoci in padella con due dita d'acqua in 5 minuti, buoni come fatti in casa. Ma sei bravissimo, colpo di fiamma, li preparo io, ma li cucini tu. Magnum 5 Sensi, 5 nuove seduzioni in edizione limitata, da Algida. E' tornato Kinder Merendero! Da una parte, una doppia crema con croccanti palline al cacao, dall'altra, Asterix, i suoi fortissimi amici e i legionari romani. Kinder Merendero, sorprende per davvero! Conosci anche tu problemi come il calcare e lo sporco ostinato? Finalmente c'è Chillit Bang, il super pulitore universale. Una sola spruzzata e le piastrelle torneranno splendenti come nuove. Le incrostazioni su rubinetto e il lavello non saranno più un problema. Perfino all'esterno della casa, Chillit Bang agisce contro macchie ostinate di ruggine e sporco. Guarda come torna a splendere questa moneta. Pulizia profonda per metallo, vetro, ceramiche e piastrelle. Chillit Bang, l'esplosione contro lo sporco. E se poi litighiamo? Come se litighiamo? Tutti litigano, me l'ha detto la mamma. Vabbè allora... No, fermo. Cosa fai per farti perdonare? Ti prendo per la gola. Cioè? Cioè, cinetramatica? Tipo? Tipo simmental. Una bella simmental con cuore di carciofo. È da sposare? Eh sì, la simmental è sempre la simmental. Che bell'uomo, e lei chi è? Enrico Pezzolato. Vabbè, un nome d'arte ovviamente. Cosa fa nella vita? Direttore di filiale. Addirittura? Eh vabbè, ma fanno direttori proprio tutti. Ce lo fa un mutuo? Eh, potrei farvi un Domus Block San Paolo. Che è un mutuo a tasso variabile. Però gli interessi hanno un tetto massimo, così se aumentano tu non rischi di pagare troppo. Ora ci faccio un mutuo a tasso fisso. Non respiri! Per parlarti del San Paolo abbiamo scelto Enrico. Perché sono le persone che fanno la differenza. Ma è quella lì? Sei mosso! Sei mosso! Era un tasso variabile. San Paolo. Meno banca, più Enrico. Il calcio non serve solo ai bambini. Il calcio serve anche ai grandi. Acqua San Gemini è ricca di calcio, quello naturale e altamente assimilabile, che aiuta a mantenere forte e salda nel tempo la nostra struttura ossea. San Gemini, forti fin dalla nascita. Permettimi di non essere d'accordo.